Se non è stata eliminata, la potresti incontrare direttamente lì dentro. Fai un bel respiro profondo e corri a vedere se c'è. Tommy, tu resta in salone. Piero, hai capito? Non c'è? Non c'è. Giulia non si è salvata. Quali sono i tuoi pensieri in questo momento? Alfonso, io da giorni che lo dico a lei, l'ho detto anche a qualcun altro, che mi sento un po' in difficoltà con lei perché con il fatto che oggi sarebbe potuto uscire, mi sento un po', come dire, ho usato la parola responsabile, no? Grazie a tutti.